Ok, ci serve del compagnimento del pubblico, ora, non tutti sappiamo schioccare da bene, allora, tenete tempo con il movimento delle palpebre, se, vediamo. Va bene anche lo schiocco delle palpebre. Vediamo, una maniera, facciamo, bastano due mani a te, stavamo qui. Eh, 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 così, wow, il pubblico più metroporato del Comune di Mezzo. Grazie a tutti. 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 Ok, finché non avremo tutti una zanzara spiaccicata con una mano, continuiamo... Prezzo! Tutti! Allora, l'altro giorno al Maracanà ci devivano tutti, quindi... Prima della partita, eh? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.